Ok, allora benvenuti, iniziamo. Quindi quello che faremo stasera è un inizio. Inizieremo perché ci staremo sopra almeno, credo almeno due o tre settimane se non di più e vedremo come realizzare comunque delle ambientazioni 3D. Allora l'ambientazione 3D era il motivo originale per cui ho selezionato Godot. Nell'inizio non volevo fare la parte 2D perché mi sembrava noiosa, perché sembrava diciamo un di più, però finora vi ho un po' stressato a voi con le parti 2D, più che altro per riuscire ad avere un po' di confidenza con le parti essenziali di Godot. Quindi capire più o meno come è strutturato Godot, che ormai credo che per voi tutti ormai sia abbastanza chiaro almeno che la parte centrale è dove si sviluppa, dove si sviluppa la scena 3D, la parte in basso dove poi avvengono eventualmente le animazioni, ma questo lo vedremo un pochino meglio la settimana prossima. Poi qui a sinistra, nella versione 3.1, ho premuto per errore un tasto, comunque compaie praticamente la struttura della scena, qui ci sono le cartelle in cui ci sono tutte le nostre cose e sulla parte destra c'è il cosiddetto inspector, dove per ogni elemento che si clicca si vedono tutte le sue caratteristiche. Questi aspetti sono molto molto simili anche a Blender, anche se magari sono messe in posizione leggermente diverse, ma sono tutti concetti abbastanza simili e in particolare sono molto simili anche questi, addirittura a livello di simboli, cioè in Blender ad esempio c'è proprio, Blender 2.8 soprattutto, la freccina serve per muovere i vari pezzi, quindi si clicca su un pezzo e lo si muove con la freccina, poi c'è questo che permette di, anzi no, la freccina per selezionare questo, per muovere, questo qui per ruotare, questo qui per scalare e questi simboli qua sono un po' universali, ci sono un po' ovunque. Allora, l'esempio più complesso che però vi faccio vedere per pura scena in questo momento è questo qua, quindi se noi andiamo alla lista dei progetti, dovrei avere... L'avevo aperto prima. Allora, vediamo un po' se riusciamo a importare il progetto in porta, sfoglia, download, forse non l'avevo salvato. Qui dovremmo avere quel famoso gatto Minecraft, Project Godot. Questo gatto qua che vi avevo accennato nei compiti, non so se lo vedete, lo vedete questo qui? È sostanzialmente una scena di Minecraft in cui dentro c'è un gattino, un gattino animato che si muove. Questa scena, ve la faccio solo vedere velocemente, comunque è in sintesi composta da una mesh che ho chiamato Minecraft, che ho preso, non l'ho fatta, io l'ho presa da Turbo Squid, che adesso poi vediamo. Il gatto che l'ha precipitato. Qui c'era una luce per illuminare la scena e poi c'era il gatto, questo è il gatto che io ho prelevato di forza dal progetto che ho mandato a Gianfranco Barbone. Quindi l'idea era che Godot permette di prendere delle scene da un progetto e metterle in un altro, quindi permette di riciclare delle cose. Questo è un aspetto molto interessante. Però, quindi composto da solo questi tre elementi e facendo il play di questa cosa, vedete che c'ho il gattino, poi con la freccina mi muovo e con la barra spazzatrice salto e il gatto praticamente si può muovere, si può muovere più o meno come si muove. In realtà si muove in maniera molto molto semplificata e però premendo il tasto destra ruotiamo la telecamera. Con pagina pagina su e pagina giù e su cambia l'orientamento della telecamera e poi c'è ancora la rotellina che permette di avvicinarsi, insomma allontanarsi dal gatto. Un po' quello che si fa in Second Life o in OpenSim. Quindi questo... non so cosa ve ne sembra di questo progettino qua. ma comunque ha già un impatto notevole per quanto c'è ancora un po' di cosette da fare ma è decisamente interessante. Adesso poi qui ci sono alcuni problemini tipo che le superfici sono un pochino troppo riflettenti. Ma può piacere o non piacere però la cosa interessante è che di fatto tra l'altro viene usato usatissimo in ambiente educational e viene estremamente apprezzato dai ragazzi. E ma è proprio quello la cosa interessante di Minecraft cioè l'aspetto squadrato che ha... a parte che abbiamo fatto... chi di voi è venuto... chi di voi è venuto al corso di Blender che ho fatto l'anno scorso sul low poly e... ecco avrete noto... adesso chiudo questa cosa qua non mi interessa più di tanto farvi vedere questa cosa qua. Sì beh il corso Mindtest è uguale a Minecraft ma invece il corso low poly che ho fatto faceva vedere come esisteva comunque una estetica del low poly e credo di aver fatto cambiare un po' idea a qualcuno di voi che pensava che il low poly fosse una cosa scadente un po' che non... cioè non è detto che sia così. Ok? Ecco il progetto invece su cui volevo concentrarmi di oggi era il concetto che questo progetto che qui ho chiamato semplice che cercheremo di rifare da zero. Questo progetto vedete che è composto da pochissimi elementi che sono una telecamera, una sferetta. La sferetta rappresenterà il nostro personaggio da un albero dopo lì e da una casetta ed ancora da un piano sotto. In realtà poi se andiamo a vedere c'è anche una luce qua. Quindi questa è la scenetta che andremo a cercare di realizzare da zero. e cercheremo di realizzarla senza... cioè partendo da zero ma senza usare Blender nel senso che scaricheremo questi oggetti da dei marketplace, dei repository che sono disponibili online. In particolare io li ho scaricati, almeno l'alberello e la casetta, li ho scaricati da TurboSquid. Sono gratuiti, sono con licenza d'uso gratuiti. Allora, questo ovviamente è un giochino estremamente semplice che però potrebbe essere già un'idea di quello che potrebbe essere l'esercizietto che poi vi andrò a chiedere. Vi ricordate che nella prima parte del corso avevo chiesto di far muovere uno sprite in uno spazio 2D? Invece in questa seconda parte del corso vi chiederemo di far muovere un personaggio in uno spazio 3D. Quindi è abbastanza... credo che sia abbastanza definito il intervallo. Non c'è bisogno di usare, a meno che non lo sappiate usare o che non vogliate usare Blender, non c'è bisogno necessariamente di usare le animazioni, anche se io le farò vedere la prossima settimana, farò vedere un po' di animazioni. Ma la cosa più importante, se avete delle cose vostre potete sicuramente importarle. Allora, lo scopo di questa sera sarà quello di darvi un paio di dritte, cercando di citare, come dicevo prima, il meno possibile Blender per poter importare le vostre cose qua dentro. Comunque, prima di iniziare facciamo un play di questa scena. Quindi facciamo il play. E vedete che adesso qui è molto più... Se muovo il mouse non succede niente. L'unica cosa che risponde questo scriptino, questa scena, sono le freccine, le quattro frecce. E il page up e page down. Quindi sono sei tasti. Allora, se io premo freccia a sinistra, vedete che la pallina va a sinistra. Ecco, vedete che però quando incrocia la casetta ha dei problemi perché ha la collisione, no? Quindi per riuscire a farlo andare a sinistra dobbiamo tornare indietro e poi farlo andare su a sinistra. Quindi sinistra, destra, freccia. La freccia in avanti va verso il fondo. E poi vedete che anche qua abbiamo la collisione con l'albero. E abbiamo pagina su che fa alzare e sollevare in volo la pallina. E pagina giù che fa abbassare la pallina. Come vedete la pallina quando arriva al suolo collide e quindi non va più giù. Non c'è la gravità, per semplicità. Però ad esempio una cosa interessante, vedete che quando vado in su, non so se state notando, la pallina quando vado in su in pratica scivola sulla casetta. Quindi non si ferma al primo ostacolo ma cerca praticamente di scivolare sull'oggetto. Se vado in cima alla casa e poi dico di andare in giù, vedete che la pallina scivola in giù. Non so se si vede dal video questo comportamento. Questo qui diciamo che è lo slide. Ecco, questo l'ho fatto vedere adesso perché il concetto di slide non è proprio così istantaneo. Forse l'abbiamo visto nel 2D, ma così direi che il fatto che sia facendo questo scivolamento sulle mesh è abbastanza carino e vedremo che viene ottenuto in maniera molto pulita. Quindi, è chiaro? Allora, l'idea di stasera è quella di importare degli oggetti da un repository che è TurboSquid. Da quel repository importeremo un albero low poly e una casettina low poly in formato con lada. Quindi ricordatevi che useremo il formato con lada. E vedremo che ci saranno un po' di problemini nell'importare queste cose. Poi cercheremo di fare la pallina che si muove. Faremo ancora il piano e faremo, insomma, aggiungeremo questi pezzi. I pezzi sono questi, ma esso li costruiremo uno per volta. Ci sono domande su questo, diciamo, piano di battaglia? No. Ok. Allora, adesso, se siamo tutti d'accordo, facciamo un progetto nuovo. Quindi facciamo progetto e siamo alla lista dei progetti. Ok, godo. E qui facciamo un nuovo progetto. Lo chiamiamo, ma chiamiamolo casetta, è albero. Creiamo il folder. Quindi verrà creato una cartella qua, sotto dove sono io. Ecco, nelle nuove versioni dei beta, vedete che qui sotto c'è questa cosa di scelta OpenGL 3 e 2. e in realtà voi non dovete preoccuparvi, in senso che questo è il nuovo motore che viene usato da Godot e questo era il motore vecchio. Allora, se voi create un progetto col 3.0, funziona bene, c'è tutta una serie di risorse. E invece la versione 2.0 potrebbe essere utile solo nei casi in cui vogliate farlo funzionare su computer molto lenti. Quindi se per caso vedete che i progetti che fate non girano bene su alcuni computer, invece di costruirli S3.0 li scrivete, mettete il pallino lì e questi diventano più semplici. Non raccomandato per web games, perché i giochi che vengono fatti sul web dovrebbero essere più leggeri. Web vuol dire proprio che sono caricati dal web. Cioè sono giocati sul web. Invece noi... I nostri saranno locali e quindi sono come appunto delle applicazioni complete scaricate. Ok? Quindi facciamo il create and edit e abbiamo il nostro progettino che è inizialmente vuoto. Tra l'altro, come dicevo prima, la beta 5 finalmente mi fa vedere questa icona bene come dia comanda. Mentre invece fino alla beta 4 qui compariva un groviglio di pixel che mi metteva in seria depressione. Ok. Allora, adesso andiamo. Un momento. Allora, io qui ho fatto una ricerca su Google in cui... Eh sì, è vero, su alcuni computer mi andava bene. Io ho cercato semplicemente Collada download su Google. Allora, Collada è perché è il sistema che Godot usa per scaricare. In realtà ne usa anche un altro che vi avevo accennato che è il GLDF. Ma per semplicità usiamo adesso il Collada perché il Collada è quello che vede anche Blender 279, insomma quello che c'è qua. Però diciamo che partiamo dal Collada, poi al limite proseguendo vi faccio vedere anche il formato GLDF. La differenza fra i due formati, se vi interessa, è che il Collada è quello diciamo un po' più vecchio ed è quello usato da OpenSim, come se sapete, OpenSim Second Life, ma ha il difetto di risultare abbastanza mastodontico. Quindi strutture anche abbastanza semplici, esportate in Collada diventano molto pesanti, quindi molti megabyte, come sta bene Gianfranco. Invece se si usa il formato GLDF, il formato GLDF è un formato binario e quindi come l'FBX e OpenSource anche lui, quindi a noi ci piace e quindi lo usiamo. Allora, cercando Collada Download, free eventualmente, si ottiene un link a free Collada Models. Ecco, nel caso non lo riusciste a trovare perché a volte... Ma sul Torbosquid non so neanche se sono registrato. Vediamo. Ma forse sì, mi ha riconosciuto. Non lo so, comunque se dovete registrarvi, non credo... Sì, mi sono registrato perché c'è un logout. Quindi probabilmente dovete registrarvi. Comunque se voi guardate, qui io ho trovato nella prima pagina diversi modelli e in particolare ho trovato subito l'alberello Low Poly. Questo alberello Low Poly lo potete fare anche voi in Blender, quindi chi di voi ha seguito il mio corso dovrebbe saperlo fare. Non proprio questo, ma qualcosa di simile. Ma in caso non lo sappiate fare, sappiate che potete sempre usare dei prodotti fatti così. E poi sempre qua, a un certo punto, si trovava anche questo modello Low Poly, anche questo, della casetta. Allora, come funziona l'export da qua? Innanzitutto questi qui sono tutti... Allora, TurboSquid vende dei modelli, però questi sono modelli free. Modelli free, se andate a cliccare, vedete che compare l'alberello e poi compare innanzitutto la licenza. E la formica l'ho provato a scaricare, ma purtroppo non si scarica per qualche motivo, mi dava errore. Volevo farvela. O è stata caricata erroneamente perché mi dà un errore. Comunque magari è solo una cosa locale. Però, insomma, TurboSquid è uno di tanti. Cioè, io l'ho trovato così, giusto perché ho cercato con l'Ada e mi è uscito subito TurboSquid. Però, ci sono moltissimi altri posti. C'è anche Poly di Google, insomma, c'è Microsoft lo so che c'è un database di prodotti 3D gratuiti. Insomma, ce ne sono veramente tanti. Quindi non è necessario saper usare. È blenda. Comunque, quando andate a fare il download, ecco, lui fa vedere il... Vedete che ho fatto la formica rufa? Ho cercato di scaricarla. Invece, mi comparo una specie di foglio di acquisti e c'è Low Poly Tree Sample. E questo Low Poly Tree Sample c'è in formato 3D Max, che a noi non dice niente, c'è in formato FBX, che può essere utile per il High Fidelity, e poi vedete che ci sono altri formati, nel senso che se qui vado qua, faccio clic, tra i tanti formati che ci sono, c'è anche un punto DAE, che è il collada. Quindi prendo questo formato, lo scarico, mi esce un file, lo faccio Show in Folder, vedete che c'è scritto Low Poly Tree Sample 1, perché l'ho già scaricato. Eventualmente, se volete, potete anche cambiare di nome, diciamo, albero. Potete chiamarlo albero Low Poly. Non mi ricordo se c'è la Y. Low Poly, sì, c'è la Y. Allora, Low Poly, e a questo punto andate a aprire il vostro progetto. E nel vostro progetto, ecco, io qui raccomando eventualmente di fare almeno una cartella, quindi andate qua, fate il tasto destro, create una cartella dove mettete i modelli, i modelli con l'ADA. Chiamiamole modelli, no? Quindi compare i modelli, cliccate, questa cartella è vuota, e dopodiché andate a prendere il vostro albero Low Poly, e se tutto va bene potete trascinarlo qui. E vedete che il trascinamento del modello automaticamente scatena lo scaricamento anche di materiali con cui costruite. I materiali sono solo il colore, quindi il verde e il marrone. Qui in realtà sui materiali poi ci sarà da fare tutta una serie di piccole considerazioni, ma io adesso le lezioni che vi sto facendo sono sul Low Poly, proprio perché risulta molto più semplice la texturizzazione, poi eventualmente vedremo una puntata anche la texturizzazione un po' più, meno banale. Però vedete che ha preso i colori dell'albero, quindi c'è il tronco e le foglie o qualcosa del genere. Analogamente possiamo fare lo stesso mestiere e importarci l'edificino Low Poly Building. Anche qui stessa cosa, l'ho comprato, poi andate a vedere e qui c'è la versione con l'ADA, che però è un RAR, quindi dovete scaricare, poi andate nel folder e se in un RAR lo dovete aprirlo, quindi fate extract qui, c'è già il punto DAE, e qui c'è un LP build, questo punto DAE, e anche questo potete prenderlo e infilarlo anche qui sui... qua dentro. Ecco qua, se vi dà fastidio questo formato tutto bello grossino, icone, potete cliccare e ottenere un bel formato a lista che trovo molto più comodo, no? E quindi andate, prendete apps, no, prendete il download, prendete questo LP build DAE e fate lo stesso mestiere. Allora, allora ha funzionato, a volte funziona, a volte no, non ho capito bene quali criteri. Comunque, se per caso, come appunto in questo caso non mi ha funzionato, la cosa ideale è andare in Mostro nel File Manager, prendere la cartella dove ci sono i modelli, andare di nuovo sul download e poi qui fate che tasto destro copia e poi tasto destro incolla. Ok? A questo punto, non appena entrate in Godot, lui vedete che ha fatto questa finestrella e si è portato dentro LP build 12 DAE. Quindi in questo modo abbiamo portato i due modelli di partenza. Come vi sembra, come cosa fin qua? L'import di materiali da eccetera. No, beh, i materiali li ha portati, c'è questo materiale, però non ci sono le texture. La casetta entra senza texture, ma per quello che facciamo noi adesso va bene così, poi dopo vedremo eventualmente, dicevo, come sistemare le texture, perché molte volte poi le texture devono essere sistemate un po' purtroppo come si faceva anche in OpenSim, nel senso che portavate magari i singoli materiali e poi dovete riapplicarli, un secondo. Però, visto che stasera non... volevo solo farvi vedere diciamo la base di partenza, vediamo i colori e basta, insomma, comunque è già interessante perché vi dà la base per poter lavorare. Ok, dopodiché a questo punto andiamo su la nostra scena principale che chiameremo Main. Ah, nel frattempo c'è la domanda fin qua? Vi sembra tutto chiaro? Sì. Ci sono domande sul modo di importarle e avete visto che a me a volte me l'accetta a volte no il fatto di fare il trascinamento. Quando l'accetta è molto bello. Quando non l'accetta... Ah, può darsi che non l'accetta... Sapete forse cos'è? Se per caso... Perché oggi me l'ha accettato sempre quando la cartella di partenza era vuota. Dunque, se te lo importa... Ma è cliccato perché lui dovrebbe fare l'import automatico man mano che vede i file DAI. Comunque, per il momento anche se non ci sono i materiali va bene così, lo vediamo qui meglio. L'importante è che abbiamo messo le due scene Sì, ma credo che anche qua si sono i materiali più o meno vuoti solo col colore. Ok, ma andiamo a comporre la scena che era quello che mi interessava di più. Quindi, ma scusa, scusa solo una cosa. Hai importato proprio questi due collada che ho indicato? No, perché allora giusto per essere chiari perché può darsi che ogni collada abbia una piccola storia a parte. Beh, non li hai trovati. Sei fatto la... Comunque, poi vedete, fate un po' di esperimenti voi. A me mi sono comparsi proprio subito nella prima paginetta. eventualmente se lo pensate, non adesso non ce la faccio stare dietro, ma vi posso pubblicare su Google Class, la i.dai insomma che stiamo usando. Però, andiamo da parte interessante, che non sono qua i materiali, ma è proprio la costruzione della scena. Quindi costruiamo una scena 3D. Ora, vi avevo già detto, è vero che le scene hanno un colore che indica il tipo di scena. Quindi la scena blu è quella che abbiamo fatto finora che sono le scene 2D. I rossi sono le scene a tre dimensioni e i verdi sono le user interface, quindi le etichette, quelle cose lì. Stasera non faremo nulla di user interface, non facciamo le 2D perché hanno detto che facciamo 3D. Quindi facciamo una scena 3D e questa scena 3D vediamo un po' se la fa salvare, ctrl s, la chiamiamo main, anzi in teoria loro dicono di farlo con l'inizio alle maiuscole, main.tscn. Quindi abbiamo una scena che inizialmente è vuota e adesso andiamo a costruirci qualcosa in questa scena. Allora, la prima cosa che andiamo a mettere nella scena potrebbe essere per esempio l'albero. Quindi abbiamo scaricato l'albero e ce la mettiamo nella scena. Come facciamo a metterci l'albero? Proviamo a vedere se ecco, vedete che ho premuto sulla catenella e sulla catenella abbiamo la possibilità di selezionare una sottoscena da infilare. E abbiamo l'albero low poly, questo, vediamo un po' se ce la facciamo a farlo senza modificare l'albero. Quindi proviamo a fare apri, quindi abbiamo una scena root questa che sarebbe l'albero che però vedete che ci ha portato un sacco di cose ma l'albero non si vedeva perché? Perché era piccolissimo. Questo è uno dei problemi che si hanno quando si importano dati da fuori, cioè che gli oggetti diventano, in questo caso è microscopico, è grosso credo meno di un millimetro. allora in questo caso per aggiustare questa situazione si clicca su scene root si va su transform qua su inspector e si cerca di aumentare la scala. In questo caso ho visto che aumentare la scala significa almeno i 100 volte. Quindi dobbiamo mettere 100 100 e 100 Ok, quindi adesso l'albero è diventato evidente e quindi abbiamo un albero nella scena. Tra le altre cose ci è importato anche una luce e anche una telecamera. Per vedere queste cose vediamo un po'. Ecco, vedete voglio modificare la scena dell'albero non ce la fa modificare perché questa scena qua è proprio collada originale quindi ci dice che per modificarla bisogna cambiare nuova ereditata. Quindi clicchiamo nuova ereditata e vedete che abbiamo questa qui la scena dell'albero e l'albero è composto dall'albero questo qui e da altre cose camera directional light eccetera eccetera quindi questo è il nostro alberello anzi forse sapete cos'è conviene forse cambiarlo in questa scena la dimensione dell'albero e di là la scena che lo chiama gli mettiamo la scalatura gli facciamo tornare a questo il main abbiamo detto scena root gli mettiamo uno perché perché facciamo ctrl s per salvarlo perché questa scena qui dell'albero la ingrandiamo qua che direi che è più dunque la scena ereditata è comparsa quando io ho cercato di cliccare su il vedete che qua c'avevo scena root ho cliccato sul simbolo del chak per andare a modificare l'albero ah non c'è un torno indietro propriamente detto dovete ricordarvi voi a che punto siete allora facendo così la prima volta ecco vedete qua mi dice il nuovo ereditata perché appunto stiamo lavorando su quella quindi in realtà bisognava probabilmente cambiare la scena che abbiamo qua questa qui la scena dell'albero che stavo cambiando e su questa conviene metterle la scalatura a 100 ok per ottenere ecco vedete l'albero delle dimensioni giuste e questa scena qua che vedete non è salvata la salviamo e intanto che la salviamo gli diamo un nome che sarà albero e nella scena principale invece di metterci questa scena qua gliela cancelliamo perché questa scena qua in realtà è proprio il collada che però purtroppo non ce lo lascia modificare quindi dobbiamo per forza cancellare il collada che ci aveva messo originariamente e linkarci invece l'albero vedete che la differenza questo albero qua è identico a questo ma questo è la versione punto DAE e questo qui invece è la versione modificabile nostra poco fa quando abbiamo detto che cliccavamo per modificarla c'è detto crea una scena ereditata e ce n'ha fatto un'altra quindi purtroppo un po' confusionario forse però tenete conto che il punto DAE originario non è modificabile quindi bisogna sempre metterci il punto TSCN quindi nel momento in cui facciamo punto TSCN siamo di nuovo nella situazione che avevamo prima il nome qua vedete che è scena root ma a questo punto se noi andiamo in modifica ci lascia modificare perché questa scena root è quella dell'albero ora TSCN allora SCN vuol dire scena iniziale di scena questa l'estensione TSCN in generale è la scena quindi la scena di Godot che ha quel attributo allora alla scena principale qui elimino nodo così riperto quando la scena è vuota perché l'ho cancellato per raggiungere gli ho messo la catena la catena serve per aggiungere una sottoscena quindi clicco sulla catena mi fa vedere tutte le altre scene che ci sono e poi ho cliccato sull'albero in questo modo è entrata quella sottoscena ecco qui allora Gianfranco mi diceva quando facciamo le varie cose non cambiamo i nomi i nomi che compaiono però come vedrete tra poco se non cambiamo i nomi poi qui comincia a diventare un po' un ginepraio di nomi uguali quindi secondo me poi alla fine conviene cambiare i nomi però adesso per semplicità li tengo immutati per aderire alla richiesta di Gianfranco di non alterare sì no però fin tanto che ne hai una sola per cui se tu hai solo l'albero e basta riesci a uscirne vivo ma se cominci a avere cinque alberi o cinque scene eccetera che tutte si chiamano scene root diventa dura veramente comunque questo qui è l'albero e adesso qui facciamo lo stesso mestiere per il dove la casetta ecco per modificare una scena di solito si clicca sul nome della scena il fatto che sia una scena lo evidenziate si capisce adesso qui siamo sui modelli questo è il direttore principale e vedete che qui c'è main.tscn e albero.tscn che sono le due scene principali che ci interessano invece le scene interne le ho messe deliberatamente sotto modelli in modo tale da creare meno confusione così tutti i die li metto qua sotto anzi addirittura in alcuni casi perché ci sono dei casi in cui dei die che hanno molti materiali molti mesh e vengono esplosi tutti piuttosto faccio sotto modelli faccio una cartella per ogni modello die che importa così non si confondono tra di loro però mettiamo che vogliamo mettere adesso la casetta per mettere la casetta dovremmo prendere la scena la scena della casetta questa gli faccio doppio clic perché voglio modificarla e vedete che essendo una scena con l'ada mi chiede di crearne una nuova e come ho fatto con l'albero la creo nuova ereditata la scena vedete che diventa qua una terza cosa non salvato faccio ctrl s e questa scena la chiamo casetta tscn quindi a questo punto se andate sotto res vedete che abbiamo albero casetta e main quindi main che è la scena principale che conterrà poi le altre due scene quindi torniamo al main nel main abbiamo messo l'albero tanto il fatto che dentro questa scena ci sia anche la la camera questo è dovuto al fatto che dentro il collada c'era la camera ma non sempre è utile importare tutte queste cose quindi in molti casi conviene magari cancellarle le le camere insomma le cose aggiuntive però adesso per il momento per semplicità teniamoci la camera che ci ha dato lui altrimenti poi bisognava inserirne una nuova main abbiamo detto che qui c'è l'albero e clicchiamo sempre sul primo nodo special e poi gli diciamo di aggiungere la casetta quindi facendo così abbiamo aggiunto la casetta e la casetta come vedete in questo momento corrisponde all'albero quindi sono sovrapposto non è bello allora cominciamo a muovere i pezzi quindi andiamo qua movimento vedete che è scritto W quindi se vi piacciono le shortcut di tastiera premete W per andare in movimento e poi qua in questo caso è un pochino non facile da capire ah sì è questa prendete la friccina e spostate la casetta e come avete visto la casetta è bianca non ha i materiali ti atteniamo così per adesso perché ci interessa solo mettere i pezzi uno per ciascuno c'è l'albero anche lui è lì tra l'altro se la casetta la voglia più grande potrei anche lavorarci sopra con le trasformazioni se questa clicco sulla casetta cioè se clicco sull'albero ecco a volte non lo so ecco vedete qui abbiamo Shenerut e Shenerut 2 è quello che dicevo prima poi vi faccio sapere che Shenerut 2 è la casetta è un po' complicato comunque diciamo che adesso Shenerut 1 è l'albero e Shenerut 2 è la casetta dicevo per fare la cosa che abbiamo visto prima occorre avere anche un il pavimento perché qui è tutto sospeso in aria per inserire il pavimento vado nel nodo principale del main e ci aggiungo e questo lo aggiungo senza scena quindi lo creo e aggiungo una mesh la mesh non la importo da fuori ma la creo la creo direttamente quindi mesh mesh instance e vedete che a suo modo anche Godot è in grado di creare delle mesh un po' come fosse una specie di mini blender quindi per creare la mesh del pavimento adesso vedete che ha creato una roba che non si vede niente per farlo diventare qualcosa occorre andare qui sull'inspector e dirgli che tipo di mesh voglio e la mesh che voglio sarà un scusate non un sbagliato ma voglio il piano new plane mesh vedete che lui ha fatto un piano ora questo piano lo facciamo lo allarghiamo e per allorgarlo andiamo ancora nella transform trasforma trasforma si chiamano proprio per questo perché trasforma le caratteristiche andiamo sulla scala e possiamo metterci qui dei valori quindi possiamo metterci ad esempio 40 metri sulla x 1 no 40 metri forse è un pochino troppo mettiamo 20 ancora troppo 10 va beh 10 è perché sono molto piccoli questi oggetti qua quindi probabilmente dovrebbero essere le cose sulla y che rappresenta l'altezza la y è il verde rappresenta l'altezza lasciamo 1 e sulla z gli mettiamo 10 quindi abbiamo fatto il questo piano che è abbastanza grossino a questo punto potremmo anche decidere di abbassarlo un po' insomma teniamolo insomma a contatto ah sì sì ci sono le maniglie per scalare basta andare qua sulla scalatura modalità scala e a questo punto ci sono le maniglie in tutte le direzioni oppure se quindi se io posso prendo questa maniglia qua allargo di là se prendo questa maniglia qua la restringo di qua e in teoria questo piano non può essere scalato sulla y e quindi non ce lo farà però in altri casi servirà quella poi devi fare quello che volete insomma su queste cose qua tra l'altro purtroppo cambia un po' qui se volete andare in modalità scala dovete premere R io solo sa perché hanno scelto la R per la scala però andate là insomma la trovate ora qui la cosa che non si capisce è il colore magari il pavimento lo facciamo un pochino scuro quindi la prima cosa che facciamo è andare qui sul materiale e inventiamo un po' come fossimo in Blender inventiamo uno Spatial Spatial Material praticamente ho cliccato qua e ho fatto un New Spatial Material è comparso una sferetta esattamente come in Blender clicco sulla sferetta e mi appaiono tutte le caratteristiche del materiale che tra i bensi sono per certi versi anche più più potenti di Blender ma hanno interesse all'albido l'albido sarebbe la parte il colore che adesso è bianco l'albido lo clicco e gli metto un colore rossiccio scuro marrone insomma vedete che abbiamo fatto il nostro pavimento marrone analogamente la casetta se non ci piace il colore della casetta andiamo su questo clicchiamo sulla casetta vedete che tra l'altro si può effettivamente cliccare qua e selezionare però basta che siate nella modalità di selezione Q allora se anche la casetta la volete adesso lo facciamo solo di materiale molto semplice quindi andiamo sulla casetta però la casetta cos'è? scena root 2 andiamo dentro la sua scena che è questa e andiamo nella mesh ok andiamo nel material e gli creiamo anche qua uno special material per il momento e anche qua gli mettiamo un colore albido e dalbido gli mettiamo oh per dire un aranciato chiaro vediamo un po' se riusciamo a farlo no non troppo chiaro un pochino su scuro ok solo così quindi abbiamo cambiato la scena del solo della casetta salviamo andiamo nel main vedete che nel main abbiamo la casetta che a questo punto ha preso quel colore fin qui vi è chiaro come comporre una scena partendo da delle mesh in questo caso importate da turbosquid oppure addirittura facendo delle mesh on the fly gli altri tipi di mesh che si possono fare sono delle cose semplici adesso vedremo tipo delle sfere dei cubi tanto per cambiare o delle capsule ma noi adesso faremo una sfera fra poco faremo una sferella che rappresenterà il nostro personaggio faremo una bellissima sferita bianca però essendo che vogliamo fare un personaggio lo aggiungiamo più lo aggiungiamo come facciamo sfera no non è una sfera mettiamo una mesh aspetta kinematic ricordate che nella versione 2D per fare un personaggio che si muove avevamo bisogno di fare un kinematic body no? anche nel 3D se vogliamo fare qualcosa che si muove dobbiamo fare il kinematic body però rosso non non questo che è blu quindi prendendo il kinematic body si genera un kinematic body c'è un personaggio vede che tra l'altro il simboletto è proprio questo omino vogliamo fare un omino e sotto quindi clicchiamo sul kinematic body e creiamo una mesh che rappresenta il nostro omino nel nostro caso prendiamo una mesh banale che è la la mesh instance questa creiamo in questo momento la mesh è vuota gli mettiamo una sfera la sfera è un pochino grande quindi domanda per tutti come fate se vuoi a trasformare la sfera in modo tale che sia piccolina sì con le maniglie oppure anche andando su transform qua dunque se andiamo sulle maniglie transform qua potete andare e scalarla quindi qui adesso è un metro per un metro per un metro tra l'altro un metro è proprio la griglia questa qui è una griglia ogni quadrato un metro quindi questa è una sfera di raggio un metro se no andate sul qua con le maniglie e poi invece di prendere le maniglie andate in un punto qualunque diverso dalle maniglie e trascinate il mouse tendolo premuto in questo modo lui fa il risistema insomma su tutti e tre assi sì molto simile a Blender poi andiamo in questo modo prendiamo il nostro personaggino e lo spostiamo con le freccine in un punto che ci interessa va bene così questa cosa qua ora poi facciamo un'altra cosa andiamo a prendere il se ce la facciamo dovremmo andare a prendere la telecamera che però è dentro la scena sotto non è bello che sia dentro la scena quindi andiamo in un nostro albero che era questo in cui c'era la telecamera e secondo me se ce la lascia fare gliela cancellerei questa telecamera allora prendiamo la telecamera qua visto che ci dà questo problemino e la adattiamo per quello che io di solito passo da Blender perché cerco di togliere le cose in più quindi prendo la telecamera la metto un pochino lontana in modo tale da poter fargli vedere la telecamera vedete che la telecamera la posso muovere anche lei ciò che vede la telecamera in realtà è come se l'ho scoperto stasera tra l'altro ciò che vede la telecamera la potete capire muovendomi col cursore e guardando qua vedete che in questo momento la telecamera sta inquadrando la parte bassa dell'albero e per sapere cosa inquadra esattamente la telecamera potete cliccare sull'anteprima ed è che sta appunto inquadrando la parte bassa dell'albero quindi questa la potete alzare allontanare ecco in modo tale che e tra l'altro vedete che c'è anche questo pallino questo pallino serve per controllare anche la la profondità di campo cioè nel senso che lo faccio così diventa grandangolare quindi prende una superficie molto più ampia se invece la restringo diventa tipo teleobiettivo ok quindi per dire se la metto così e faccio l'anteprima vedete che si vede l'albero però magari noi visto che poi vogliamo fargli vedere una scena molto un pochino più dove c'è anche la dove ci sarà anche la casetta la allontaniamo che quindi qui ci sarà la casetta sulla sinistra quindi così abbiamo preso la telecamera e messa in un punto un po' più comodo ctrl s per salvare la scena main mette che la telecamera è lì ora quello che possiamo fare adesso è quello di fare il run di questa cioè far eseguire il nostro giochino quindi premiamo il play il quale play la prima cosa che ci chiederà è di qual è la scena principale quindi noi dobbiamo fare selezione e andiamo a prendere main e poi facciamo apri e a questo punto vedete che la telecamera ci mostra le nostre cosine che sono la casetta la sferetta e l'albero però non regisce ai tasti quindi è abbastanza noioso però vi è chiaro questo è tra malintesi il fatto che faccia vedere questa scena è dovuto al fatto che c'è proprio la telecamera se non ci fosse la telecamera non si vedrebbe la scena vedrebbe tutto buio quindi la telecamera ci deve essere ora a questo punto proviamo a fare il primo scriptino quindi andiamo sul nostro kinematic questo eccolo kinematic body ci aggiungiamo lo scriptino e facciamo lo solito scriptino uno scriptino molto simile a quelli che siamo abituati a fare anche in 2D cancello tutto e faccio func pro no physics process lo ricordate che ce l'avevamo e nel physics process facciamo allora vi ricordate come muovevamo uno sprite in 2D ci creavamo un vettore 2D e poi a seconda del tasto premuto gli cambiavamo la x y z e poi facevamo un move slide quindi praticamente la sequenza era questa cioè vettore 2D poi poi chiedevamo quali tasti premuti e in funzione dei tasti premuti e in funzione dei tasti premuti modifichiamo il vettore 2D e infine facevamo un move end slide ciao Giorgio e qui facciamo la stessa cosa quindi prendiamo un var lo chiamiamolo move uguale vector però visto che siamo nelle tre dimensioni prendiamo un vettore a tre dimensioni quindi vector 3 e poi con questo punto facciamo if input punto is action pressed e mettiamogli il ui left quindi cosa deve fare quando quando facciamo il left allora vediamo un po' se riusciamo con i due punti finali allora quando fa il left torniamo alla nostra scena vogliamo che la pallina si muovi verso sinistra rispetto alla telecamera la camera è qua che guarda la scena da qua quindi se noi premiamo il tasto a sinistra vogliamo che la pallina vada a sinistra e cioè vada nella direzione contraria alla freccia rossa visto che la freccia rossa è la x la direzione contraria alla freccia sarà un meno quindi sarà il segno meno questo vuol dire che nel nostro script diremo move punto x uguale meno 1 quindi dividiamo di 1 ogni volta che preme il tasto a sinistra adesso facciamolo semplice nel senso che qui facciamo direttamente un move and slide di move facciamo la cosa più semplice possibile vi è chiaro questo script fatto così? ho visto che molti di voi si spaventavano di fronte agli script però gli script partono tutti in maniera molto diciamo incrementale più che non insieme è praticamente identico l'unico problema che vedrete adesso l'unica aggiunta che ci sarà anche la y o la z insomma secondo tranne vector 3 allora proviamo a vedere se funziona quindi facciamo il play ok ok adesso vi ho detto freccia a sinistra premiamo freccia a sinistra e vedete che premendo a freccia a sinistra la pallina si muove però non riesco a farla tornare indietro non collide e non va a destra allora per il fatto che non vado a destra credo che sappiate come risolverlo come facciamo a risolverlo per farlo andare a destra se avete delle idee sì ma cosa devo aggiungere qua devo aggiungere delle righe suppongo sì però devo aggiungere una if cioè se premuto il tasto we write quindi facciamo facciamo copia di queste due righe qui mettiamo write e qui mettiamo move x 1 quindi se facciamo il play di questa roba qua adesso la pallina ci obbedirà ci obbedirà perché perché se premiamo freccia a destra farà freccia a destra e vedete che passa non collide con l'albero e freccia a sinistra entrerà dentro la casa brutto adesso risolviamo il fatto che vogliamo che la pallina vada anche avanti indietro e in alto in basso allora per sapere quali sarà il da x y z da usare dobbiamo farci aiutare dal 3d quindi guardiamo la scena e vediamo che se vogliamo che con la freccia in basso vada si avvicini alla telecamera quindi si avvicini dobbiamo questo qui sarebbe la z il blu è la z dobbiamo incrementare la z la blu freccia in giù farà y a 1 e freccia in su per allontanarlo farà y valore di y sarà meno 1 chiaro non è che ci siano grosse cose quindi cosa facciamo prendiamo tutte queste due cose e andiamo sull'altro asse quindi se premiamo abbiamo detto che se andiamo in down dobbiamo prendere la z e incrementarla se invece andiamo freccia in su che è up dobbiamo prendere la z e decrementarla adesso facciamo il play e vediamo tra i prezzi anche se per caso ci siamo confusi possiamo correggere in ogni momento nel senso che vediamo allora qui sinistra destra freccia in giù bello si avvicina freccia in su si allontana ora a questo punto vi è chiaro questi due movimenti sinistra destra freccia in su e freccia in giù come vedete sono perfettamente uguali alla parte 2D con la differenza che con la differenza che però stiamo lavorando in un ambito tipo second life notate la grandezza insomma di Godot allora se vogliamo invece agire anche sull'asse Y deve fare che pagina su deve incrementare la Y la verde e pagina giù deve decrementarla in questo caso tra l'altro la direzione è anche più lineare rispetto al 2D perché il 2D vi ricordate che per l'andare giù bisognava aumentare invece qua è più è più normale no? come cosa quindi andiamo in nuovo qua ci aggiungiamo la parte relativa all'asse Y quindi copiamo questo e gli mettiamo dunque abbiamo detto pagina su la Y e adesso lo vediamo sta roba qua move Y va 1 se invece UI page down move Y meno 1 ok questo scritto in un momento vi sembra sempre vi sembra che morda è semplicemente la ripetizione di tutto quello che abbiamo fatto però applicata ai vari assi da pentesi chi fa i programmi fatti per bene di solito dice qua commenti si usa il cancelletto per fare commenti quindi movimento sinistra destra no? si mette questo commento qui si possiamo mettere un movimento avanti indietro indietro asse mettiamo Z e poi qui invece movimento in alto in basso movimento alto basso così si capisce cosa fa andiamo a fare il play e abbiamo finalmente la cosa destra sinistra pagina su che va in alto pagina giù tra l'altro se andiamo sull'albero poi pagina giù vedete che passa attraverso l'albero e va giù per terra chi è che mi aveva detto che andava giù per terra? bello allora adesso quindi il prossimo problema da risolvere sarà quello di gestire la collisione ok? come gestiremo la collisione? aggiungeremo delle mesh di collisione vi ho promesso che facciamo tutto senza blender e c'è la possibilità di farlo effettivamente localmente e in realtà è abbastanza banale nel senso che si va sulla scena dell'albero che è questa 3D questo qui è l'albero si seleziona la mesh dell'albero che è quella e poi dove qui sopra vedete che c'è scritto mesh e gli si dice di costruire un corpo statico trimesh quindi si fa crea corpo statico trimesh clic non so se avete notato dal video che compaiono delle ragnatele blu queste ragnatele blu semplicemente dicono quali sono le collisioni le collisioni che fa l'albero tra parentesi se voi la collisione sono qui per vederla comunque credeteci tanto mi sembra che si veda abbastanza che quella è la collisione se no alternativamente a questa collisione potreste metterla qua in modo tale da io posso nascondere la mesh dell'albero e vedete che rimane soltanto la collisione però diciamo facciamolo lasciamolo come come ce l'aveva più o meno creato lui comunque l'acqua importante è che qui forse così vabbè comunque dovrebbe funzionare dovrebbe funzionare comunque quindi l'albero collide con quella tree mesh lo stesso mestiere facciamo ctrl s quindi l'albero è sistemato andiamo sul main andiamo sulla casetta e anche qua clicchiamo sulla mesh mesh crea corpo statico tree mesh anche qui vedete che si è creata la collisione l'altra vedete che è molto bravo creare le collisioni per questo genere di mesh cosa manca in realtà anche il piano deve avere la collisione quindi andiamo main andiamo probabilmente non stiamo a guardare tanto a questa cosa qui c'è il mesh instance che su qui è il piano e le può fare quindi in realtà notate che è più facile almeno secondo me è più facile 3D però vi ho fatto fare il 2D perché così almeno avete un'idea buona insomma di tutti i nodi principali che hanno coinvolto andiamo ancora qui nel mesh instance e anche qua facciamo la stessa cosa crea corpo statico tree mesh tac si è creato anche qua sopra ok a questo punto facciamo semplicemente il play play vediamo un po' se è vero che ci sono ah forse abbiamo dimenticato ecco vedete che non ha funzionato bene abbiamo dimenticato che cosa? vediamo se riuscite a capire cos'è che abbiamo dimenticato no beh a parte salvare ce lo salva lui in questo caso fortunato però abbiamo messo tutte le collisioni a tutti tranne che ha la palla perfetto quindi andiamo sulla pallina questa e questa è una mesh i casi sono vabbè prima fare anche qua crea corpo statico tree mesh l'ha creato in realtà ecco vedete che qui ha creato una roba un po' complicata in realtà non si fa così ma adesso è un po' tardi quindi no la faccio magari vedere un'altra volta comunque usiamo la stessa tecnica del tree mesh adesso c'è la collisione anche la sfera anche se purtroppo è un pochino uno spreco mettere lì tutte quelle tutti quei mesh di collisione proviamo a vedere se abbiamo azzeccato questa volta facciamo questo andiamo a sinistra cazzo non l'ho preso allora forse bisogna farlo nell'altro modo perché essendo un kinematic body bisognerà metterlo nell'altro modo quindi mesh instance quindi facciamo nell'altro modo eliminiamo il nodo static body abbiamo il kinematic body qua allora lo facciamo nel modo in cui non volevo fare però così diventa più interessante nel senso che aggiungiamo direttamente una collision mesh ecco in questo caso diventa probabilmente il kinematic body ha bisogno proprio di questa mesh questa collision quindi facciamo collision mettiamo una collision shape rossa questa la creiamo ok questa collision mesh vedete che è associata al kinematic body facciamo la più semplice andiamo sulla mesh instance qua aggiungiamo una collision shape mentre siamo puntati proprio sulla pallina ok la collision shape la facciamo esattamente uguale prima c'è una sphere shape ok dovrebbe averla creata una collision shape ah bisogna fare un forse questa qui basta metterla qua sotto ecco così la collision shape bisogna mettere proprio al stesso livello il kinematic body vedete che è sparito l'avvertimento e voglio solo vedere ecco vedete che la collision shape fatta in questo modo qua è molto più banale che non quella che aveva cercato di costruire prima proviamo a vedere se è così la collisione funziona quindi facciamo un play vediamo sinistra ecco vedete che la collisione adesso funziona quindi il kinematic body però l'alberello l'alberello non lo collide perché non collide l'alberello forse perché la collision shape devo mettere la figlia di static body secondo però di là funzionava nel caso della casetta dove della casetta ah sì la collision shape era figlia di static body e abbiamo visto che funzionava quindi qui la collision shape la mettiamo figlia di static body adesso ho il sospetto ecco ci siamo vedete che adesso lui si funziona proprio come come una collisione in che senso non esce dal piano la pallina cioè quindi abbiamo fatto e vedete che questo punto fa anche lo sliding abbiamo visto prima magari poi lo vediamo adesso comincia ad essere un pochino tardino ma non so se vi è piaciuto questa spiegazione la freccia verso l'alto non ti funziona e controlla lo script questo qui quindi andiamo sul main controlliamo lo script del kinematic body freccia verso l'alto sarebbe UI app l'hai messo move.z uguale meno uno gli è scritto UI app proprio UI underscore up e cos'è la freccia che non ti funziona page app e non capisco se vuoi far sentire la voce aspetta che ti provo se riesco a trovarti Maria Scroo a mute prova a parlare sentite io ti sento se gli altri allora quando io ho creato la sfera praticamente la sfera si muoveva a destra e a sinistra però non esce dal piano resta tipo sotterrata dentro il piano non so perché ah perché forse all'inizio l'avevi fatta già troppo bassa devi alzarla eh ma non anche praticamente muovendo sulla freccia verso l'alto non no ma ah la freccia intendi quella dell'editor sì sì cioè questa praticamente quando qui allora il kinematic body che è che ha questa mesh instance questa basso la destra e la sinistra la verde non funziona praticamente ma sei sicura di aver ah vedete altro qui sta spostando la mesh ma non la collision mesh allora aspetta un attimo forse devi qui purtroppo è messa qua però si può per dire mettere quel famoso cosa dove è questo no il pazzo locale e dov'era ma io addirittura adesso la kinematic body neanche me la fa prendere niente lasciamo stare poi lo rifaccio salato prova a rifarlo tra l'altro anche qui come l'ho fatto io non è perfetto vedete che il kinematic body lo punta lì perché l'avevo spostata sì infatti neanche il mio ora va sull'albero quindi non riesco più a prenderla in realtà la cosa giusta sarebbe di fare in modo tale che il kinematic body abbia il centro dentro la sfera senza spostarlo quindi magari puoi spostarlo dal centro qui comunque più o meno adesso il concetto di base dovreste dovreste averli un po' chiari adesso un po' più chiari rispetto sì sì rispetto ti ho mutato di nuovo quindi eccetera allora quindi a questo punto io direi che qui per finire questo piccolo diciamo esercizio io gli cambierei i nomi ad esempio questa qui la chiamerei effettivamente albero così capiamo che è l'albero questo qui lo chiamerebbe casetta questa che è la mesh instance questo qui sarebbe il piano quindi sarebbe il pavimento chiamiamolo e poi c'è il kinematic body che è il nostro la nostra cosa ecco se qualcuno mi aveva chiesto ad esempio come mai abbiamo fatto come scena questi e non come scena il player o il pavimento in realtà può capitare che per fare un qualche cosa si pasticce quindi si ottengano questi fenomeni però si può sempre intervenire in un secondo momento dicendo che il pavimento lo si può trasformare in scena quindi se dico salva ramo come scena allora mi salva e diventa un pavimento appunto tscn e quindi quella è diventata una scena e analogamente anche il kinematic body posso fare tasto destro salva ramo come scena kinematic body e quindi alla fine ho effettivamente tutte le varie cose tutte belle separate e a quel punto lì posso anche aggiustare le varie cose separatamente qualcuno mi aveva chiesto un mese fa che senso avesse fare una scena una sottoscena e il vantaggio è che vedete che si capisce meglio avendo la sottoscena soltanto del personaggio conviene ad esempio questa qui centrarla sullo zero quindi si ragiona tutti siamo in una parte molto più compatta senza tutto ciò che lo circonda quindi si può lavorare meglio quindi il personaggio è semplicemente questo kinematic body che ha la sua collision shape che è quella tra l'altro la collision shape ripeto come prima fatta non con la trimesh in questo caso diventa molto più facile per lui da gestire tra l'altro in alcuni dei video che ho fatto il mese scorso invece di una sfera avevo fatto una capsula ah si dice appunto Gianfranco che il giocatore è meglio farla in una scena totalmente nuova comunque io spero mi sono ho cercato di farvi un magari ecco questo questo progetto fatto così se lo volete ve lo rendo disponibile così lo potete vedere come come è fatto però la cosa importante è che ho strutturato tutta la lezione in modo tale che ipoteticamente potreste produrvelo voi partendo da qualunque mesh qualunque asterisco perché ho trovato alcune mesh in giro che se non sono trattate con blender diventano un po' complicate no? qui non so se avete già c'era una roba che non andava bene cioè il collada dell'albero conteneva la camera e questo non va minimamente bene infatti vi dicevo in questo caso io avrei preso l'albero in in blender avrei salvato solo l'albero e non tutto il resto qui tra l'altro non solo c'era la camera ma c'era anche la luce e anche la luce io avrei preferito metterla nella scena senza che mi arrivi dal collada poi un'altra cosa che soprattutto per Gianfranco Gianfranco io lui nei video precedenti gli avevo insegnato a fare la collision mesh da blender telecamera non c'è ma la potete inserire c'è un nodo più c'è la camera questa quindi potete inserire una camera vedete questa così come questa camera diciamo la controllate voi e non siete schiavi del fatto che vi è arrivata in quel modo però in questo momento vedete che ci sono due di camera perché c'è la camera qua c'è anche la camera dall'altra parte adesso quale camera userà lui per lavorarci perché se fate il play di questa cosa qua con due camera dentro ha usato probabilmente ancora l'altra e probabilmente bisognerà dirglielo in qualche modo quella camera da usarsi credo che sia il current se faccio il current su questa camera nuova qua e poi aspetta lo sposto qua e provo a fare questo e sto provando perché non ho ancora provato queste cose ecco vedete che in realtà in effetti adesso mi ha pescato la mia nuova camera perché? perché gli ho messo current in realtà voi potete avere in una scena N telecamere e poi decidere da script quale telecamera seguire si possono fare delle cose molto molto sofisticate così come vi ho detto prima che qui c'era una luce che era contenuta dentro il Cinematic Body però se ne può aggiungere una nuova facendo Directional Light questa e qui si ne aggiunge un'altra luce e anche questa io preferisco avere la luce questa qui sapete perché si chiama direzionare perché equivale a una specie di sole che in questo caso i raggi vengono dall'orizzonte e quindi tipo tramonto invece probabilmente se siete verso mezzogiorno i raggi del sole e della luce arrivano così quindi in questo modo potete calcolare meglio le ombre e tutto il resto no? Comunque anche questo è già di troppo non è obbligatorio se non mettete la Directional Light probabilmente non compaiono le ombre ecco questo è l'unica è l'unica cosa diciamo che tornando indietro quindi le cose essenziali sono queste scene quindi credo che ormai avete capito bene il concetto bene magari intuitivamente almeno il concetto di Collision Shape ricordate che ci sono delle regole sintattiche ad esempio il Collision Shape deve stare dentro lo Static Body l'unica eccezione è il Kinematic Body in cui invece la Collision Shape la vuole allo stesso livello la vuole fratella sorella altrimenti si arrabbia cioè se questo qui lo prendo lo metto sotto abbiamo visto che lui non è molto contento vabbè non sono neanche riuscito a metterlo comunque se per caso adesso bello della diretta io vi lascerei così a meno che non abbiate qualche ulteriore domanda e se siete d'accordo a parte adesso c'è tempo c'è comunque il compito di fare una cosa simile a questa avrete qualche settimana per farlo la settimana prossima io volevo dettagliare un attimo come fare quel come come gestire un bricio dell'animazione magari con dei personaggi già fatti tipo il gatto che abbiamo visto adesso oppure il come si chiama l'uomo cubo che qui è disponibile quindi prenderemo un collada che dentro ha che dentro ha delle animazioni già fatte e cercheremo di pilotarle un momento ok come vi sembra alla fine siete confidenti vi sembra più semplice più interessante rispetto del 2D sicuramente Gianfranco non fa testo perché lui però sappiate a me è piaciuto a me è piaciuto farvi vedere il 2D perché è interessante anche l'aspetto diciamo in cui Godot permette di fare delle animazioni 2D cioè quindi tipo cose fatte sì beh il 2D dicevo fatte tipo avete presente come si chiama Scratch che permette anche permette anche di fare delle crospedeutiche ma può essere interessante anche proprio per fare dei microfilmati delle spiegazioni cine se uno volesse perché invece di andare a farle con sofisticati e complicati software di generazioni filmate si possono fare sia con Blender ma secondo me ancora più facilmente con Godot ok allora con questo io vi lascerei siamo giusti compito 2D e no non l'ha fatto però dovete convincerlo a mettere altrimenti gli do un punteggio basso anzi più che io e più che io il punteggio basso mi sa che glielo faccio dare da Emanuele Emanuele è ancora qui? o l'abbiamo? ok perfetto allora poi ti faremo correggere forse mentre io facevo tutta la vi ho fatto la testa così con le palline eccetera eccetera lui ha fatto la correzione allora io finisco la registrazione qua e vi saluto fra mezz'ora diciamo dovreste avere il video vediamo un po' grazie a tutti